Sia lodato Gesù Cristo Giovanni Battista è il più grande fra i nati di donna eppure il più piccolo nel legno dei cieli è più grande di lui questo è il detto di Gesù ed è rivolto alla falla che lo ascolta che poco capisce nella profondità chi sia il Messia e chi sia il grande profeta Giovanni la gente comprende che si trova di fronte a qualcosa di superiore e che quello che dice viene da Dio quindi l'appello alla conversione perché è il tempo vicino è la funzione ultima dell'ultimo profeta ad indicare colui che è già presente ed è già presente mentre si intreccia la storia senza una soluzione di continuità la storia è quella che comincia fin dall'origine della storia dell'umanità con il peccato subito viene profetizzata la salvezza che viene per mezzo di una donna di una stirpe nuova e tutti i profeti indicano che questa cosa si realizza attraverso la donna e la sua stirpe che è appunto il Cristo le profezie da lontano indicano sempre più precisamente questa figura misteriosa che il tempo di Gesù deve riconoscere e purtroppo la maggior parte non lo riconosce specialmente nei capi che colpevolmente rigettano Gesù dunque gli indicatori sono numerosissimi partono da lontano sono raccolti nella storia sacra ma riguardano anche altre nazioni abbiamo l'esempio dei magi venuti da lontano che testimoniano che Dio li ha toccati e li ha guidati a colui che salva il mondo non solamente Israele questi indicatori, dunque i profeti sono come cartelli che indicano testimoniano colui che deve venire la persona più importante della storia il quale diventa un perno per il passato il presente, per il futuro per quello che gli compie per quello che gli fa nella dimensione materiale ma ovviamente con il suo fondamento in ciò che è e rimane c'è lo spirito la volontà, l'intenzione di Gesù la sua missione per il Padre fonda la sua eternità e il suo effetto che si raga in tutte le dimensioni del tempo perché è essenzialmente un'operazione spirituale per questo tutta la pienezza dei segni indicatori che dall'inizio della storia convergono sul Messia l'unto del Signore per compiere la grande opera tutti i segni sono racchiusi, raccolti e resi perfetti in un'unica persona così abbiamo come una frammentazione di quelli che sono gli elementi della messianicità cioè di quelle che sono le proprietà proprio del Cristo li abbiamo tutti quanti riuniti nella unica persona di Cristo ecco il grande profeta Elia unico a dichiarare la grandezza di Dio del popolo di Israele quando questo tutto aveva deviato Elia compiva anche miracoli ma man mano che il nuovo Elia l'Elia che doveva venire cioè Giovanni Battista diventa più prossimo all'evento il grande evento che è il Messia diventa semplicemente voce mentre invece quello che è il sacerdozio la potenza di miracolo la parola di Dio che è ben più di una parola udita la parola stessa di Dio che si fa carne si racchiudono nel Cristo potremmo vedere tutta la storia sacra i profeti e gli eventi che indicano il Cristo come un enorme cornice che gira attorno al soggetto che è dipinto sulla tela che è il Cristo e questa grande cornice è disegnata in modo tale che ogni elemento richiama l'elemento centrale per cui guardando Cristo noi possiamo guardare indietro nella storia nella storia sacra nella storia dell'umanità e vederne così gli albori tutto quello che viene preannunciato e vediamo come la storia sacra ha un suo significato cioè la storia è sacra perché è di Dio anche quando è guastata dall'evento del male e si vede in questa storia come tutti gli elementi vengono utilizzati da Dio per costruire l'unico grande evento che è a beneficio di tutti gli uomini la nascita del Cristo la nascita del Figlio di Dio ecco dunque che Giovanni il Battista il più grande fra l'alti da donna il grande profeta non compie miracoli ma è la voce che grida e che poi deve diventare a sua volta piccolo perché perché il Cristo deve giganteggiare davanti alla mente agli occhi di tutti perché tutto sia concentrato su di Lui ecco perché il Cristo fa miracoli Giovanni Battista non ne fa ed ecco perché manda i suoi i suoi discepoli Giovanni vedendo i segni cioè i miracoli che Gesù compiva a chiedere se fosse Lui o si doveva aspettare qualcun altro lo chiede ovviamente a nome dei discepoli per i discepoli perché la sua fede era lucida e sapeva bene chi era il cugino era il Messia e la risposta di Gesù è proprio fatta sui segni compie vari miracoli davanti a loro poi ci sono quelli che ha già compiuto e dice ecco io ho compiuto ciò che il profeta Eseo aveva detto di me i storpi camminano i ciechi vedono i sordi odono sono guariti i lebrosi i morti ressuscitano andate a dirlo Giovanni è stato nella pace e beato chi non si scandalizza di me perché questo è il grande rischio attendere la soluzione delle cose nei nostri tempi con la nostra cultura attendere la soluzione delle cose con la nostra pretese fa sì che il Cristo diventi lo scandalo come lo fu al tempo della sua vita materiale soprattutto della sua morte lo scandalo della croce la follia del Cristo che San Paolo vanta era la fine destinata a un perdente non a un vincitore a un messia beato dunque chi non si scandalizza del Cristo e comprende il mistero della croce che è quella che salva noi dal peccato dicevo che la nostra mentalità umana contemporanea è molto distante da quello che è la fede spirituale l'atteggiamento del fedele che Dio richiede e che Gesù chiede abbiate fiducia in me è lontano perché noi vogliamo con una mentalità di persone che sono soggetti di diritti avere la nostra giustizia subito ora immediata noi non bussiamo alla porta del Signore per convertirsi così come è l'appello di Giovanni ed anche di Gesù convertitevi credete al Vangelo il regno è vicino noi andiamo carichi di diritti di quello che per noi la vita umana terrena ha bisogno e che qualcuno ci deve dare e quel qualcuno è Dio Dio ha dei doveri nei nostri confronti non si può dunque parlare di conversione ma di richiesta con proteste della giustizia di Dio che deve essere fatta subito secondo le nostre esigenze personali che non tengono conto degli altri in genere e secondo una giustizia che è immediata retributiva senza pensare che noi abbiamo più che dei diritti dei doveri nei confronti di Dio il dovere di tornare a Lui di bussare alla sua porta di chiedere perdono di essere riammessi alla sua corte e di essere rimessi in questo suo grande progetto di costruzione di figli di Dio noi siamo dunque destinati ad essere elevati alla statura di Cristo che è il più grande nel Regno dei Cieli perché siamo associati a Lui chi di noi dunque può parlare serenamente di peccato e di colpe verso Dio non siamo forse più propensi a invocare il diritto e l'uguaglianza di tutti a un Dio che non se lo garantisce il bene della vita terrena la riuscita dei nostri progetti a un Dio che deve farci questo la parola conversione dunque da qui la misericordia di Dio che concede il perdono non c'è non siamo nella mentalità del peccato del peccatore della richiesta della grazia siamo nella mentalità folle dei nostri diritti davanti a Dio ma di quello che noi dobbiamo fare a Dio e al prossimo ma di questo di questi non siamo molto molto propensi a a pensarlo e a metterlo in pratica non ci vediamo in questo modo cerchiamo di stare bene l'importante è stare in pace con se stessi avere una buona armonia con sé dunque gli altri che girano attorno possono in qualche modo o adeguarsi a noi o essere allontanati perché il nostro benessere psicofisico è il centro di tutto invece c'è una pazienza che ci viene richiesta insieme alla conversione che è la pazienza di chi attende che il Signore della storia metta a posto le cose non solo nella nostra vita ma in quella di tutta l'umanità e noi siamo tesselli di un grande mosaico un grande disegno vivo e ognuno deve stare nel suo posto per far sì che tutto il disegno abbia senso e possa incentrarsi ricapitolarsi in Cristo centro della storia Cristo sempre ieri e oggi e domani Dio ti benedica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.